Una giornata per ricordare tutte le forze armate, il loro sacrificio, il loro impegno nel territorio, ma anche all'estero, a difesa dei nostri valori, dei nostri ideali e della libertà. E' il significato del giorno dell'unità nazionale della giornata delle forze armate, celebrato ieri, 4 novembre, in Andria come in tutta Italia. Le autorità civili e militari si sono prima ritrovate presso Palazzo di Città, da dove è partito un corteo che ha sfilato per le vie centrali e determinato presso il Monumento dei Caduti. Qui, dopo la deposizione di un ancorolandio a loro, Don Gianni Massaro ha celebrato una santa messa in suffragio dei caduti andriesi di tutte le guerre. Per l'occasione il sindaco Nicola Giorgino ha ricordato che il 4 novembre, anniversario della vittoria, non è una ricorrenza utile ad esaltare le imprese belliche del passato, ma un'opportunità storica dove si riannoda ancora una volta il filo della memoria e del ricordo che prende avvio dalle eroiche gesta di coloro i quali sono caduti per l'amata patria. Quel filo della memoria e del ricordo, ha detto il primo cittadino, sempre ravvivato dalla civica amministrazione con iniziative finalizzate a consolidare, specialmente nelle nuove generazioni, i valori condivisi della democrazia nell'irrinunciabile contesto dell'unità nazionale. Solo i valori condivisi possono dare dignità ad un popolo, specialmente in una congiuntura temporale incerta e complessa, che richiede più che mai una fattiva e leale collaborazione istituzionale ad ogni livello.